Tragico incidente frontale sulla Soncinese dove un ragazzo di 27 anni, Diego Simonetti, è morto nella serata di sabato 30 ottobre in un terribile incidente tra due auto, tra Fontanelle e Gallignano di Soncino. Il giovane stava tornando a casa da Bergamo, a bordo della sua Ford Fiesta. Dopo aver visto la partita Atalanta-Lazio, fatale lo scontro frontale con una dacia d'Aster, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che è avvenuto intorno alle 19.15. Sul posto è arrivato un'auto medica, tre ambulanze e l'elisoccorso decollato da Brescia. Purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare, al medico non è rimasto che constatarne il decesso.